Serata noiosa, nulla da vedere in tv, in questi casi ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici, bentornati su Mass Effect 2 Legendary Edition. Siamo in squadra con la bella Miranda e Garrus, e oggi faremo la missione di Garrus, ma soprattutto siamo nel nostro 34esimo episodio. Ragazzi, stiamo andando avanti di brutto, guardate dove siamo. Livello 26, Zacchera, avete visto la nostra zona? Vicino a dove c'è il cuoco con i bar, qui ci sono le scale che scendono. Perfetto. Andiamo in questo warehouse, appunto in questo magazzino. Per quanto pare, vi ricordo, che la missione di Garrus, occhio per occhio, si basa su trovare Obrio, col che aveva tradito, in un magazzino nel mercato nero. Quindi andiamo a vedere se è questo di un posto. Krogan? Oblio, non sai esattamente come ti avevo immaginato. L'aspetto può ingannare. Dunque, chi di voi due vuole sparire? Preferirei che tu facessi riapparire qualcuno. Ma noi non forniamo questo servizio. Fa un'eccezione. Solo per questa volta. Dannazione! Svelti! Sparategli! Sparate! Troppo lento. Non so neanche perché ci provo. Stiamo cercando qualcuno. Un tuo cliente. Non è mio. Non sono Oblio. Lavoro solo per lui. Più o meno. Lo sapevo. Beh, forse allora potresti dirci dove trovarlo. Sì, certo. È nel quartiere industriale. Opera fuori dalla vecchia fonderia prefabbricata. Conosco il luogo. Ha con sé parecchi mercenari. Il sole blu. Arkin ritiene che lo proteggano. Il sole blu? Che cosa c'entrano i sole blu in tutto questo? Sfruttano i suoi servizi per aiutare i propri agenti a infiltrarsi in varie attività e organizzazioni della cittadella. Bastardo. Usa l'SSC per aiutare quella feccia. No, no, no. Beh, non proprio. È stato licenziato dall'SSC tempo fa, ma conosce ancora il sistema. Interessante, ma questo non cambia nulla. Dobbiamo comunque trovarlo per arrivare a Sidonis. Andiamo. Beh, andiamo a far visita a Arkin. Dobbiamo andare alla stazione di transito. Da lì potremo raggiungerlo. Allora io posso andare? Certo, ma se non troveremo Arkin, torneremo da te. Oh, bene. Allora, nello scorso episodio, ragazzi, vi ricordate che avevamo incontrato Ilias Killer, che era sempre di Mass Effect 1, l'avevamo visto per un attimo. Adesso cerchiamo Arkin. Vi ricordate di Arkin? Che si sbronzava in servizio, le faceva un po' di tutti i tipi. Quindi, allora. Allora, quartiere industriale, che sia questo? Quindi molto probabilmente, vediamo, non era mai stato disponibile il quartiere industriale prima di questo momento. Quindi deve essere per forza la posizione giusta. Allora, Garru, se potremmo puntare su Samara? No, mi porterò ancora la nostra Miranda, via. Ecco, dovremmo essere dentro la missione di Garru, se adesso. Ecco Arkin. Eccolo lì. Shepard? Salve, Arkin. Fermateli, fermateli! Ma non sembra tanto intenzionato a parlare con noi. Corri quanto vuoi, Arkin! Ti troveremo! Allora, diamo l'emozione alla squadra. Andato. Perfetto. Allora. Come vedete abbiamo un kit medico che possiamo... Teniamo d'occhio sempre le zone per vedere... Il match l'emozione alla squadra. Allora, diamo l'emozione alla squadra. Il match l'occhio abbiamo. Ecco. Da. Perfetto. Allora, vediamo. Questo sicuramente... Non c'era dentro niente. Eppure io che ci provo. Allora, stanno sparando. Nel caso. E' un'altra miranda. Avevo un brutto punto. ok allora guardiamoci bene attorno qua ci sono dei mech c'era qualcosa forse cassaforte da bypassare vai 1.500 crediti eh queste due insieme ce le stanno mettendo abbastanza lontane vedete per 1.500 crediti provare a farci sbagliare così vabbè è meglio che un calcio nelle gengive alla fine guardiamo qua dentro non c'è niente ce la prendiamo con largo comodo ragazzi non voglio lasciare indietro dei danni del mitra o delle altre armi anche se ho potenziato la pistola al massimo archine è qui da qualche parte lo sento ok vai queste due insieme queste due insieme questi due perfetto vai 900 crediti ed ecco qua stanno muovendo qualcosa come avete visto si è chiuso tutto dietro di noi sono tutti i amici guardiamoci bene attorno sempre da non lasciare indietro nulla ok niente qua dentro faccio sempre un'esplorazione completista per quello che riesco eh grazie Miranda solo due sembra che stiano usando i merci schede dei circuiti bypass vai queste due vai altri 900 crediti e vediamo cosa muove anche questa una e due poi queste due sono uguali ho visto che siamo sotto fuoco nemico mentre stavamo non pensavo andassi in pausa al gioco ma per fortuna che i nostri compagni ci danno una bella mano allora una barriera uno scudo sovraccarica Miranda ora ci sono i comandi del ponte vai buttato giù ok qui dobbiamo andare ad abbassare il ponte però raccogliamo i ridi e ce le violiamo i portati ho 4500 crediti allora uno aspettiamo il segmento giusto che lo vedo eccoli e ora ci serve quello che potrebbe essere questo perfetto vai ottimo allora direi che possiamo abbassare il ponte abbiamo raccoglto il ponte il ponte non si abbassa sta ancora cercando di ripararsi nonostante abbiamo fatto soltare copertura guarda c'è stato io attorno si lasso le mech pesanti attento sovraccarica il mech vai sovraccargli gli scudi ragazzi come ci rigestiamo adesso i mech comunque rispetto all'inizio gioco i primi video non sembra neanche vero cioè è proprio diventata forte la squadra una cosa che nel 1 no ma nel 2 la stiamo sentendo proprio la potenza che ha aumentato la squadra allora non abbiamo raccolto niente di importante il diavolo starà combinando e così Arkin è diventato completamente cattivo è sempre stata una tremenda seccatura ma non sono dell'umore giusto per i suoi giochetti se non collabora lo porterò ad un passo dalla morte stai bene mi sembri nervoso Garrus forse Arkin saprà perché Sidonis voleva sparire se è così sa perché siamo qui e non voglio che avverta Sidonis hai visto? ho visto qualcosa si sta preparando a riceverci cosa farai ad Arkin se si rifiuterà di collaborare? ormai è un vero criminale lavora per i sole blu dovrei sparargli a vista ma mi serve vivo perciò non gli causerò danni permanenti quel che basta per sciogliergli la lingua non esagerare non sei costretto a ferirlo per ottenere ciò che vuoi non preoccuparti Arkin è un codardo parlerà prima che possa fargli davvero male cosa pensi che abbia preparato Arkin per noi lì dentro? non lo so sembra un complesso industriale macchinari pesanti potrebbe esserci di tutto c'è qualcosa lì dentro probabilmente altri sole blu Arkin si è praticamente messo in trappola da solo deve avere qualcosa in servo per noi Sidonis hai sempre intenzione di uccidere Sidonis quando lo troveremo? il piano è quello sarà rapido e indolore contrariamente a quelli che ha tradito gli verrà risparmiata l'agonia di una morte lenta è più di quanto meriti ma mi accontenterò di vederlo morto Garrus credi davvero che uccidere Sidonis sistemerà le cose? lo so che non ti piace Shepard ma devo farlo non c'è un altro modo? forse ma questa è una cosa personale premerò il grilletto e vivrò pagandone le conseguenze ti chiedo solo di aiutarmi a trovarlo allora andiamo a prenderlo beh c'è solo un modo per scoprirlo ti copro le spalle allora identificativi falsi nell'agglomerato Zaccher vedete abbiamo trovato qualcosa una trammissione di consegna vai passiamo ci proviamo vai passare queste due insieme perfetto e vai 2100 crediti c'è le energetiche vai vioghiamo il terminale ci proviamo in meno andato il primo due non è questo è questo ottimo danni da fucile di precisione per il nostro Tane Shepard anche se uso proprio grazie perché non te ne vai 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 deve far male si funziona spiaggono a contatto col suolo ok continuo ad avanzare se voi copritemi l'ho visto andate ok ridatemi i tempi questo dovrebbe rallentarlo bene non scapperò da te Shepard buono sapersi Harkin Harkin se ne pentirà oh merda due mech pesanti arrivano scudo vai miranda vai guard allora si continuiamo a guardare andate andate sta cambiando perfetto di qui e andate C'è mancato poco, ma non abbastanza Allora, Oblio, non sei riuscito a scomparire, eh? Su via, Garrus, possiamo trovare un accordo Cosa volete? Sto cercando qualcuno Beh, sembra che entrambi abbiamo qualcosa che l'altro vuole Non siamo qui per chiederti un favore, Arkin Ma non mi dire Hai aiutato un mio amico a sparire, devo trovarlo Temo che avrò bisogno di qualche informazione in più Si chiama Sidonis, Sidonis Akura E un Turian viene da... So chi è, ma non vi dirò nulla Arkin, non deve per forza finire male Fottiti Non rivelo mai informazioni sui miei clienti Nuoce agli affari Sai cos'altro nuoce agli affari? Un collo spezzato D'accordo, d'accordo Ma toglimi le mani di dosso Terminus ti ha davvero cambiato, eh Garrus? No, ma Sidonis mi ha aperto gli occhi Ora organizza un incontro Vado Sì, sono io È possibile che la tua identità sia compromessa È per questo che ti chiamo Ti manderò un agente Dove vuoi incontrarlo? D'accordo, non preoccuparti Ho tutto sotto controllo È fatta Vuole incontrarti di fronte al Salone Orbitale A mezzogiorno Dunque, se abbiamo finito Andrò a... Non credo proprio Ora sei un criminale, Arkin Allora? Vorresti uccidermi? Non è il tuo stile, Garrus Ucciderti? No Ma non mi dispiacerebbe rallentarti un po' Non c'è bisogno di sparargli Ora non sarà in grado di nascondersi dall'SSC Pare che sia il tuo giorno fortunato Già Spero di rivedervi molto presto Non gli ho sparato Coraggio Andiamo Sarà meglio che Sidonis sia lì O tornerò a finire il lavoro Ok Allora Andiamo a incontrare Sidonis E finiamo la missione Facciamo il trofeo ragazzi Ritorno all'obbligo Di ottenere la Realità Appunto Di Garrus Arkin è una dannata minaccia Non avremmo dovuto lasciarlo andare Meritava una punizione Stai bene? Stai iniziando a preoccuparmi Garrus Sei stato piuttosto duro con Arkin Non credi che lo meritassi? E' solo che non è da te Cosa vuoi da me Shepard? Cosa faresti Se qualcuno avesse tradito te? Non lo so Non lo so Ma non lascerei che ciò mi cambi Avrei detto la stessa cosa Prima che capitasse a me Non è troppo tardi Non sei costretto a farlo Se non assicuro io Sidonis alla giustizia Chi lo farà? Nessun altro sa ciò che ha fatto E a nessun altro importa Non vedo alternative Lascia che gli parli io Di quello che vuoi Ma non cambierò idea Non mi interessano le sue ragioni Ha cercato di fregarci Merita di morire Lo credi davvero? Capisco cosa stai passando Ma vuoi davvero ucciderlo? Apprezzo il tuo interesse Ma io non sono te Non sei neanche te al momento Davvero? Ho sempre odiato le ingiustizie Il pensiero che Sidonis possa farla franca Perché dovrebbe continuare a vivere Mentre dieci bravi uomini Giacciono in tombe senza nomi Mi spiace Shepard Non basteranno le parole Per risolvere il problema Devo prepararmi Dall'aggiu avrò una linea di tiro libera Come funzionerà la cosa? Cosa devo fare? Fallo parlare E non metterti in mezzo Ti avvertirò quando l'avrò nel mirino Fammi un segnale In modo che io sappia quando sei pronto E io sparerò Farei meglio ad andare Presto sarà qui Shepard Mi senti? Forte e chiaro Bene Eccolo lì Fagli segno di avvicinarsi E fallo parlare Facciamola finita Sei sulla linea di tiro Spostati di lato Ascolta Sidonis Sono qui per aiutarti Non pronunciare più quel nome Sono un amico di Garrus Ti vuole morto Ma io spero che non sia necessario Garrus? È uno scherzo? Dannazione Shepard Se si muove gli sparo Non stai scherzando vero? Al diavolo Non resterò qui a scoprirlo Di a Garrus che avevo i miei problemi Fermo Toglimi le mani di dosso Sono l'unica cosa che ti separa da un bel buco in testa Merda Ascolta Io non volevo farlo Non l'avevo scelta Tutti hanno una scelta Mi avevano scoperto Mi avrebbero ucciso se non li avesse aiutati Cosa potevo fare? Lascia che io gli spari Shepard È un dannato godardo Tutto qui? Stavi solo cercando di salvarti la pelle? So quello che ho fatto So che sono morti a causa mia E dovrò accettare questo peso Mi sveglio ogni notte Nauseato e sudato I loro volti mi guardano severi Accusandomi Sono già un uomo morto Non dormo Il cibo non ha sapore Ci sono giorni che vorrei solo farla finita Dammi solo la possibilità Non fare o Garrus Lascia perdere Garrus Sta già pagando per il suo crimine Non ha pagato abbastanza Ha ancora la sua vita Guardalo Garrus Non è vivo Non resta più niente da uccidere I miei uomini Meritavano di meglio Dì a Garrus Immagino di non poter dire niente Per sistemare le cose Sei fortuna Degli di andarsene Ti sta offrendo una seconda possibilità Sidonis Non spercarla Ci proverò Garrus In qualche modo sconterò le mie colpe Grazie Per averlo convinto Lo so che vorresti parlarne Ma io no Non ancora È la cosa migliore Garrus So che non è andata come pensavi Ma credo che sia stato meglio così Non ne sono così sicuro Lascia passare del tempo Sì Forse basterà Devo sapere di aver fatto la cosa giusta Non solo per me Ma per i miei uomini Meritavano la vendetta Ma quando mi sono trovato di fronte a Sidonis Non ho potuto farlo Capisco Il confine tra il bene e il male Si fa confuso Quando si tratta di persone che conosciamo Già C'era ancora del bene in lui L'ho visto È molto più facile vedere il mondo in bianco e nero Il grigio Non so cosa fare con il grigio Fidati del tuo cuore Garrus Devi fidarti del tuo istinto È stato proprio il mio istinto A cacciarmi in questo casino Non essere troppo duro con te stesso Grazie Shepard Per tutto quanto Andiamo Ho bisogno di allontanarmi da questo luogo Ti seguo Ok ragazzi Completiamo la missione Che mi è sempre piaciuta tantissimo La missione di Garrus Abbiamo ottenuto dell'esperienza Abbiamo sbloccato il potere di Garrus Dalle munizioni perforanti Il nuovo completo per Garrus I danni da fucile previsioni Avete visto dove si prendono Crediti e iridio Perfetto Fantastico Vediamo se c'è ancora qualche Piccolo dialogo con Garrus Ma non credo E a quel punto ci saluteremo Se non c'è E andremo A cercare il consiglio Nel prossimo episodio Come vi ho già detto Ecco qua Nessun dialogo con Garrus Da quello che vediamo Quindi Se andiamo qua Vediamo Adesso Garrus è reale Anche lui Ci mancano solo due missioni di realtà Di Jack e Samara E questa è la nuova Il nuovo set di Garrus Come vedete O forse no Questo è il nuovo set di Garrus Vedete? Nero Così Però a noi piace Quello che ci dà Il DLC Quindi Ok Perfetto Fatemi Per quando metto online Ovviamente Non perderti Perdervi Pardon Il prossimo episodio Che sarà il trentacinquesimo Se Con il se Sempre se I calcoli sono esanti Che sto facendo Mentre vi registro Il trentacinquesimo Che ci vedrà Come mia intenzione Andrà a pagare col consiglio Poi abbiamo altre due missioni di realtà Da fare Quindi Vedrò di organizzarvi Gli episodi In questo modo Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao a tutti E ovviamente Vi ringrazio di aver visto Quest TV